gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia sapete che la diatriba conte salvini salvini conte va avanti da lungo tempo da quando ad agosto del 2019 è caduto il governo conte 1 è ripartito il governo conte 1 scambi di accuse sulla gregoretti sulla open arms le ong sei stato tu no siamo stati tutti e due assieme no sei stato solo tu alla fine ti porto in tribunale eccetera eccetera siamo arrivati ai giorni d'oggi dove alla fine conte aveva cercato salvini sul telefono sui telefoni dice poi whatsapp salvini non aveva risposto poi salvini aveva detto ma no guarda che io ho cambiato numeri di telefono mi hai cercato non so dove mi hai cercato alla fine poi salvini chiama conte e gli dice ti manderò delle mie proposte poi finalmente si vedono su richiesta non si è capito bene c'è chi dice salvini ha chiamato conte c'è chi dice conte ha chiamato salvini non lo so però alla fine si sono sentiti si sono poi trovati con tutto il centrodestra meloni tagliani per forza italia e salvini per la lega hanno parlato con conte c'era anche il ministro della dell'economia gualtieri e anche l'altro ministro per i rapporti col parlamento d'inca e così salvini al centrodestra hanno fatto la loro proposta e conte ha detto ma vedremo non sono adesso adesso ci penso vediamo le faremo sapere sono usciti un po da questo incontro abbastanza tutti delusi però conte ha sentito ha pensato e sa perfettamente conte che quello che diceva il centrodestra il fontana zaia i sindacati una parte del pd una parte dei 5 stelle una parte dell'associazione industriali era assolutamente corretto e anche lui alla fine ha emanato l'ultimo decreto proprio ieri di notte e ha chiuso l'italia come chiedeva per 15 giorni centrodestra ma attenzione ha chiuso l'italia non a chiave ha chiuso non tutto non tutto le aziende le fabbriche sono aperte quindi milioni di italiani si alzano ogni mattina per andare a lavorare treno autobus macchina lascia passare a piedi si incontrano eccetera eccetera quindi matteo salvini torna di nuovo e non ci può pensare dice deve chiudere tutto conte deve chiudere tutto per 15 giorni certo l'economia si si pre si prefigge per non solo per l'italia ma per l'europa per il mondo un non una caduta dell'economia un tracollo una catastrofe economica peggiore di una guerra mondiale dopo dopo quando finirà tutto questo l'italia dovrà partire come partita nel 1948 con nel dopoguerra ci sarà da ricostruire l'economia e quelli che avranno chiuso molti non apriranno mai più perché erano già in bilico erano già che non sapevano se avevano l'ordine del cliente se non avevano l'ordine del cliente che facciamo tiriamo avanti paghiamo i dipendenti guadagniamo poco tra negozi piccoli centri commerciali fino a delle grandi aziende questo può essere il colpo di grazia ovviamente quindi sicuramente ci sarà un ridimensionamento delle attività economiche italiane spaventoso spaventoso e quello porterà a una caduta dell'occupazione senza precedenti in italia molti che avevano il contratto come ti possiamo dire in prova di sei mesi in prova di tre mesi il contratto a termine e quelli mi dispiace ma perderanno probabilmente quasi tutti il lavoro perché le aziende cominceranno a a tagliare tutto quello che non è necessario chi sono i primi che non sono necessari sono quelli con i contratti a termine i precari e quelli che hanno che erano in prova quindi le aziende ripartiranno con il minimo indispensabile quelle che ripartiranno quindi sarà una situazione da dopo guerra una situazione da dopo guerra dove ma tutti i negozi insieme ordineranno chi fiori chi mobili quindi ci sarà anche un andranno in tilt le aziende che riapriranno perché gli ordini saranno spropositati per rifornire di nuovo i magazzini di tutto quindi quello che si prospetta è uno scenario assolutamente apocalittico mai visto prima nel dopo dal dopo guerra fino ad oggi ma matteo salvini dice va bene la collaborazione va bene il comportamento responsabile ma ora non è più il tempo delle incertezze e delle regole a libera interpretazione no sapete in questi giorni cosa si può fare cosa non si può fare dovrebbe essere abbastanza chiara una sola cosa non si esce di casa per 15 giorni questo dovrebbe essere l'unica cosa inconfutabile e sicuramente senza possibilità di fraintendimento dice ma cosa posso fare posso andare col cane a passeggiare posso andare al parco e se vado in bicicletta mi fermano ma il lascia passare in macchina e se vado a piedi gli dico che poi vado al supermercato che vado a cambiare la lampadina no no una sola regola non si esce di casa questo è quello che dice matteo salvini e quello che dico anch'io che ho sempre pensato perché più di quello poi non si può fare attenzione quella è l'ultima cosa è l'ultima restrizione libertà soppressa personale di libertà di movimento si esce solo contingentati che deriva da contingente numeri certi solo in alcuni giorni solo in alcuni orari solo dipende dai quartieri con un cordone di sicurezza delle forze armate per andare a fare la spesa uno alla volta distante non un metro due tre quattro metri uno dall'altro entrano dieci persone al supermercato per volta e non di più questo questo è quello che si deve fare ma giuseppi ancora questo non non pare vero gli sembra di essere troppo cattivo gli sembra di essere troppo da centrodestra ed è capito nella mente degli uomini di sinistra no o mamma mia o mamma mia così mi diranno che sono poi un fascio leghista ecco ecco senso io non metto in dubbio la buona volontà di conte di risolvere questa situazione quella è in dubbio però c'è comunque un preconcetto in lui in tutti gli uomini di sinistra che fa sì che alcune decisioni vengano a priori scartate o limitate perché vengono indicate dal loro inconscio come un qualcosa di estremista e soprattutto di destra no e allora c'è questa limitazione che negli altri paesi non hanno guardate trump cosa ha fatto oggi ha chiuso tutti i voli provenienti dall'europa per 30 giorni chiuso punto ha firmato e nessuno ha detto niente nel paese e beh ci mancherebbe altro lui difende difende la sua nazione e come ha sempre fatto altri paesi hanno chiuso i confini con noi ma e nessuno dice niente non c'è nessuna nessun tipo di polemica nessuna da noi invece ancora in un paese di questo tipo dove ancora si parla dei fascisti i comunisti no i partigiani del 2020 capite che capite che giuseppe conte si sente un po badoglio no ecco e chissà se uno di questi giorni ascolteremo come nel 1945 l'annuncio se non sbaglio era di corrado alla radio che diceva diceva così una notizia straordinaria la guerra è finita ripeto la guerra è finita le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo americani ecco probabilmente spero presto che riceveremo un una comunicazione a rete unificate che è stato trovato il vaccino il vaccino verrà distribuito nei prossimi giorni a tutte le strutture e a tutti i cittadini quella mostruosità è finita ripeto è finita speriamo di dover di sentire questo discorso alla radio alla televisione e poi ricomincerà la ricostruzione perché attenzione l'economia è distrutta avete visto la borsa di milano oggi e si ostinano a non chiuderla per me da economista è inspiegabile io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale descrizione gratuita e siamo anche nella pagina di facebook tele italia dove ci sono tutti gli stessi video presenti su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti